Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume Super esperimenti per ragazzi svegli. Facili e affascinanti esperimenti da fare a casa. La scienza divertente con le sostanze comuni. L'autore è Paolo Capobussi, l'editore è Libri Sandit. Il volume costa 9,90 euro. E' un libro veramente pratico che spiega come fare tanti belli esperimenti con sostanze che abbiamo a casa, di facile reperibilità. Ricco di immagini, le procedure e gli esperimenti sono ben spiegati. Quindi è un libro proprio da utilizzare. Buona lettura e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Ripetiamo, super esperimenti per ragazzi svegli. Facili e affascinanti esperimenti da fare a casa. La scienza divertente con le sostanze comuni. Saluti da Elettronica Didattica. La scienza divertente con le sostanze comuni.